25 milioni di euro non bastano il presidente della regione nell'Omusumeci dopo mesi di critiche arrivate soprattutto dai confederali di Cigelle. Cisle Will l'ha detto proprio davanti ai sindacati in aula consigliare, riferendosi ad un accordo di programma da tanti ritenuto semplicemente al ribasso. In questo modo il presidente ha anche stoppato i facili entusiasmi dell'ex giunta sfiduciata. Cigelle affronta una fase di passaggio, di transizione assolutamente difficile perché da un modello economico prettamente industriale, di industria pesante, Dio sa quanto sia stata pesante, passa ad un processo di riconversione diciamo green, verde, ecologico, compatibile. Per il quale processo di conversione il mio governo ha già messo a disposizione 10 milioni di euro, 15 milioni li ha messi lo Stato ma ne metteremo ancora di più. L'intenzione quindi è di fare nuovi investimenti, di mettere più soldi, almeno così ha precisato rispondendo al segretario confederale della Cigelle Ignazio Giudice che ha parlato in rappresentanza della triplice. Ma la linea del governo regionale sembra rivolta anche ad altro, a settori che possano riattivare la macchina sgangherata di un turismo locale rimasto anni luce distante rispetto al resto dell'isola. Il presidente infatti ha parlato di un giacimento che non viene sfruttato, quello dell'archeologia e dei ritrovamenti in questo territorio. Gela è un prezioso giacimento archeologico, siccome i turisti da tutto il mondo sono interessati alle nostre testimonianze di millenarie culture dobbiamo puntare su un turismo culturale. Sto andando al museo per vedere quali lavori urgenti servono per ripristinarlo, creeremo finalmente un luogo adatto dove esaltare anche il museo del mare e i reperti che accompagnano queste testimonianze.